Prima ripresa. 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 Non lo siano nel tirare, non lo siano nel tirare, non lo siano nel tirare. Poi! Cosi che hai pensato, non lo siano nel tirare di veloci. Non lo so. Che questo è un po' successo in parte, dopo averci avviato le vence. Deciso... Motiva... Grazie a tutti. Un po' pressa, pressa. Bene. Buongiorno, anche un po' troppo. Ma bene, non mi chiedi, non lo bagaggia no. Non lo bagaggia no. Ma il sinistro, il sinistro. Il sinistro. Ma il tutto. Ehi. Ehi. Fa, fa. Quarta è l'ultima impresa. Ma via, 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 via. Go, porti a più. Ma nemmeno questo ci vuole dare. Inizio! 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 Inizio. Inizio, inizio. Inizio! Rebarono o no. Redito, stretto. Zitto! Inizio, inizio! Inizio! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.